Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in SNAB, io sono Andrace, qui con me c'è... Carlitos, ciao ragazzi, e... E Crovatar, ciao a tutti, ciao a tutti. Allora, oggi siamo qui sulla mappa miniere, che è il settimo GP PZ1C, e via, partiamo subito. Mappa disegnata da Carlitos, che già vince. Allora, mappa bella aperta. Mappa aperta, però ci sono alcuni punti un pochino insidiosi, ma si dovrebbe stare abbastanza larghe. Questi carri non ci saranno, vero? Eh no, la striscia rossa si vede in alcuni punti un po' poco, però dai, direi che non ci saranno problemi. Qui si arriva verso il monte, e c'è la prima strettoia insidiosa nel mare. Ole, qui si gira, così. Qui si va sotto, e qui bisogna passare alla sinistra del masso, con tanto di linea viola per non sorpassare. Ah, sull'acqua. In mezzo all'acqua, così che le skill per andare nei terreni soffici, ne gioverà tanto, senza fare nomi. Ora si sale su. E ora si sale su. E ora si va nel punto più fico della mappa, sul monte, a fare il giro giro tondo. Allora ragazzi, attenti, qui c'è la linea viola, che si può anche toccare, ma tanto è inutile toccarla. L'imbuante è non passare dalla parte opposta, dove passeranno gli altri corridori al rientro del monte. Oh, oh. Si fa tutta la curva bene. Si gira. Qui ci sono due pirla che hanno messo due carri un po' grandi. Ok, Crovat ha squalificato. Sono i tasati. E mi sono riunito voi. Ecco, sì. Qui si gira a sinistra, sull'acqua, veloce. Beh, comunque si vede, si derappa alla grande. A meno che tu non la fai bene. Qui si va tutto dritto, ci sono molti drittoni. A me piacciono le piste lunghe, così. I giri penso che siano tre, se non abbastanza lunghi. Sono a meno tre minuti e quaranta, se non erro un giro. Sì, 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 sì. Qua c'è gente che esplode in battaglia. Ole. Qui arriviamo ad un altro punto critico. Ha delle linee viola da non sorpassare. Bisogna evitare di tagliare queste curve. Qui si vede un pochino poco, però dai. Eccolo qui, la prima linea viola. No, dai, c'è anche questo murettino qua. Bisogna girare. Quindi basta non toccare il muretto e ci si fa. Qui lo stesso, non bisogna spaccare la casa. Recinzione scena. Sì, sì. Ah no, cazzo, posso c'è uno a dire? Eh sì, anche molto. Poi qua si va tutto dritti. Si supera il superabile. Qui manca proprio il rosso, sparito. E siamo già arrivati al punto d'arrivo. Sono io che ho ostacolato Dark. Gira Sky, gira Sky, gira Sky. Ed eccoci qui nel paesino. E si vince. Carlitos primo. No, Sky è primo. Porca troia. Bastardo, via dalle palle. Maledetto Sky ha vinto. Ebbene ragazzi, il GP è tutto qui. E fa anche rima. Oh, chi è il pirla? Maledetto. Mi raccomando, come sempre, montate cioccolata, bibite, bla bla bla. Centott'anni, duecentott'anni. E ci vediamo alla prossima. Mercoledì. Ciao, ciao. 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 Grazie a tutti.